Sono moltissime, ed entrare a far parte di quelle più prestigiose è molto, molto difficile. Ah! Quella in cui io desidero entrare vanta numerosissimi maghi di livello eccellente! Oh! Come posso fare? Scommetto che entrarci sarà un'impresa... Scusarmi, ti sto annoiando con questi discorsi sulla magia che tu non puoi capire, ma vedrai che prima o poi farò parte anch'io di quella gilda. Magari mi assegneranno dei lavori importanti e diventerò anche ricca. Oh, tu credi? Certo che parli tanto. Ah, prima ho avuto l'impressione che foste in cerca di qualcuno. Grazie a tutti.